Oggi spassa gli accordi cosiddetti di dominate o di settima di dominate o semplicemente di settima. Oggi siamo in tonalità di Si bemolle, quindi Si bemolle settima è un Si bemolle maggiore, una triade maggiore. Si bemolle Re Fa E aggiungiamo un intervallo di terza minore dalla quinta, quindi da Fa E troviamo quindi l'A bemolle che è la settima minore di Si bemolle. Tralascio tutto il discorso teorico di questo accordo che funziona e in che genere si suona. Faccio solo un paio di esempi, nel blues, nel funk, nel jazz. E' un accordo che ha probabilmente molte funzioni e può essere alterato, però oggi concentriamoci un attimo per ora solo sullo studio dell'arpeggio. Come suonarlo, come utilizzarlo e quali possono essere le idee per costruire il groove, specialmente in stile funk, ma non solo. Quindi, il solito discorso di tutti gli arpeggi, lo studio delle tre posizioni, quindi partire con il dito Ah, siamo venuti in Si bemolle, abbiamo detto, partire con il minolo Con il dito medio, il secondo dito E con l'indice Scusate O così O così E proviamo a suonare su tutta la tastiera anche questo arpeggio, quindi E via dicendo Una cosa molto importante che credo sia doveroso farvi notare e farvi provare soprattutto E' quella di creare una semplicissima frase prima che vi viene in mete Più o meno, una cosa del genere E farla con le tre diteggiature Quindi faccio l'entamente Ho fatto una cosa tipo Più o meno, una cosa del genere Con l'indice E questo serve non solo a imparare un groove appunto in varie posizioni Quindi Ampliare la conoscenza della tastiera delle varie possibilità Ma anche perché cambia il suono Suonare un groove in questa parte della tastiera È un suono diverso da Proprio una cosa fisica dello strumento e quindi cambia il suono Torniamo all'arpeggio di settima E si può riprendere tranquillamente gli esercizi che abbiamo visto per l'arpeggio precedente Quindi per semitoni Mi settima Fa 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 di asist Sol Sol E' possibile cambiare le diteggiature Quindi diciamo Le chiamo percorsi Quindi un fa settimo Io lo posso fare così Ma anche volendo Eccetera eccetera Come sempre Come sempre fateli ascendenti Discendenti Mezzi e mezzi Uno ascendente Uno ascendente Eccetera eccetera Partendo dalla terza Ad esempio Mi settima Salire Salire Poi di semitono Che qui Falli tutti Partendo dalla terza Partendo dalla quinta Eccetera eccetera Se volete Ampliare Diciamo Estendere l'accordo Fino alla nona La nona Poi vedremo più avanti Molto spesso Sarà Bemolle Quindi sarà Do Bemolle Quindi nel caso Si bemolle Si naturale Per convenienza Altrimenti La nona Maggiore Normale E in altri casi Può essere anche Diesis Ma questo Ne parleremo Un po' più avanti Quando Vedremo Il collegamento Con le scale Quindi Restando sul semplice Si settima Se lo facciamo Lo ampliamo Fino alla nona Ma con la nona maggiore Vedrebbe Questo Quindi ho aggiunto un Do naturale Oppure fino all'undicesima O addirittura fino alla tredicesima O addirittura fino alla tredicesima Eccetera eccetera Oggi voglio Farvi sentire con una base Questa volta un po' più Funcheggiate Quali sono Le possibilità Che abbiamo Quindi Solo con le note Dell'accordo di Si settima E poi vi faccio vedere Un trucchetto Che soprattutto Nel funky Sta benissimo E andiamo a sentire la base Allora inizialmente suonerò solo le note di Si settima appunto Quindi Si Re Fa La bemolle Andiamo ora a vedere Proviamo a suonare Si bemolle Si bemolle Minore Ora proviamo A utilizzare tutte e due le terze Quindi Si bemolle Settima Che ha la terza maggiore Si bemolle Minore Settima Che ha la terza minore Le proviamo a mescolare tutte e due L'ultimo consiglio che vi do oggi è quello di provare anche la cosiddetta sostituzione del tritono che sarebbe nel caso di Si bemolle la cosiddetta sostituzione del tritono che sarebbe nel caso di Si bemolle la cosiddetta sostituzione del tritono. Questo è semplicemente Settima Uguale Identico Però una quarta diesis Il tritono Sopra Quindi nel nostro caso sarà un Mi Settima Provatelo Infatti non sempre ci sta bene Però possiamo utilizzare qualche nota appunto di Mi Settima Il nostro gruppo Cambiamo la nona bemolle Settima minore La quarta diesis E la terza minore Settima minore Settima minore Settima minore Settima minore Per oggi fermiamoci qui Abbiamo buttato giù tanti, come si dice, tante carri nel fuoco Sentite voi dove mi sembra che ci stia bene qualche sostituzione, qualche nota un po' out, diciamo Questi sono solo alcuni dei tantissimi modi per andare un po' fuori, un po' dentro Si può usare note cromatiche Appunto l'accordo di Settima si presta molto a essere alterato, interpretato a piacere Quindi vedremo anche meglio quando parleremo di scale e proprio sostituzioni vere e proprie Vi aspetto al prossimo video Per oggi è tutto, grazie ancora e al prossimo video